Ben tornata tra noi ad Abbiate Grasso. Sono felice io di avervi ritrovate poi in un giorno così importante in cui ci sarà, mi sembra di capire nel pomeriggio, una stupenda, vivacissima maratona letteraria, quindi spero che questo evento possa riscuotere il successo che merita, è importante che ci sia ancora una realtà in cui si parla di libri e in cui si legge. In cui si parla di libri, inoltre si parla di vino, di cibo, di tradizioni, di cose buone, di cultura, per la nona edizione, arriveremo alla decima l'anno prossimo. In bocca al lupo! Viva il lupo e crepi il lupo!